Il Giano Sanodis 6439 è una barca concepita per la crociera, anche se ha dimostrato di non essere una pacciosa e lenta barca da famiglia. Anzi, anche con vento leggero, quest'ultimo Giano ha dato fondo a tutte le sue doti, evidenziando una rimarchevole agilità e una sensibilità al timone non prevedibile. Con poco più di 5 nodi d'aria al traverso, il 439 riesce a navigare oltre 3 nodi e accelera con notevole sensibilità alle variazioni del vento. Le due ruote del timone sono a ridosso della poppa, che ha anche una parte dello specchio amovibile in modo da favorire la discesa in acqua. Il pozzetto è largo e ha un tavolo al centro che supporta anche gli strumenti, mentre la tuga bassa, grazie alle scotte nascoste, permette di essere usata come prendisole. Ottima l'idea del tavolo con le ale abbattibili, perfetta per la crociera. Regalano ordine due piccoli gavoni a fianco delle ruote, che seppur sottodimensionati, raccolgono drizze e scotte, altrimenti sparse in pozzetto. La dinette, con tanta luce grazie a finestre sulla tuga o blu opribili, è contraddistinta dalla calda atmosfera dei legni di tonalità pastello, in contrasto con i rivestimenti delle poltroncine del divano. A dritta c'è il blocco cucina L, attrezzato con doppio lavello, piano di cottura a due fuochi e forno. Da notare come è stato attrezzato con vari stipi per la cambusa. All'estrema prua è collocata la cabina armatoriale, di dimensioni piuttosto ampie, segnata da uno stile semplice e lineare. È servita da un bagno con altezza più che adeguata e attrezzato con box doccia separato. Ottima la funzionalità del tavolo della dinette, la cui superficie può essere raddoppiata. A popavia sono state ricavate due cabine doppie con letti di notevole ampiezza, apprezzabile la luminosità grazie agli oblò opribili nel pozzetto. Entrambe le cabine sono state attrezzate con armadi molto capienti. Anche il layout del secondo bagno prevede un box doccia separato. A gevole è l'accesso al motore che si trova sotto la scala di discesa sotto coperta. La prova completa dello Jeannot Sanodis 439 è pubblicata sul numero di luglio 2011 di vele motore.